Come creare NFT gratis attraverso questo tutorial di mentalità milionaria. In questo video scopriremo come creare degli NFT che potremo vendere e naturalmente creare di conseguenza delle collezioni all'interno dei vari marketplace di NFT come per esempio Crypto.com, come per esempio OpenSea, come per esempio Solanart eccetera eccetera. Quindi tutte quelle piattaforme che ci danno la possibilità di poter poi vendere gli NFT che abbiamo creato è creare delle collezioni. Nel dettaglio in questo video non vi faremo vedere come creare delle collezioni eccetera eccetera ma vi faremo capire il metodo che si può utilizzare per poter andare a creare il primo NFT. Allora innanzitutto è una cosa fondamentalissima siamo all'interno per esempio di Binance.com NFT abbiamo aperto una collezione e vi voglio subito far vedere cliccando per esempio su un NFT che qui ci fa vedere quali sono le dimensioni perché generalmente adesso per tutto per quanto riguarda gli NFT immagini, lato immagini, oggi vi facciamo vedere come creare un'immagine NFT, come potete vedere anche qui abbiamo la possibilità di sapere anche qual è la dimensione utilizzata dalla maggior parte delle collezioni. Per esempio questa collezione è utilizzata un 1024x1024 formato quadrato, altre collezioni per esempio hanno utilizzato anche un 2000x2000, quindi sappiamo anche qual è la dimensione che ci può tornare utile per poter andare a costruire la base del nostro NFT. Detto questo quali piattaforme, quali strumenti, quali tool possiamo utilizzare per creare NFT? Un tool molto interessante che possiamo utilizzare per creare i nostri NFT soprattutto per utenti inesperti è Canva. Canva è un tool online a un abbonamento anche gratuito, cioè un appagamento uno gratuito che ci permette di creare le grafiche per i social e in questo caso specifico ci dà la possibilità anche di creare le grafiche per i nostri NFT. Un altro tool molto interessante fa parte della suite di Adobe Illustrator oppure possiamo utilizzare Photoshop. Un altro strumento che ci può venire in aiuto per esempio è Invato Elements. Invato Elements è un abbonamento online che ci permette di accedere a milioni di asset digitali, non solo grafiche, quindi non solo template, ma anche foto, video e quant'altro. Ora la cosa interessante è che per esempio se io voglio utilizzare all'interno di Illustrator una grafica per poter andare a creare i miei NFT, io posso andare a selezionare Illustrator proprio qui in basso e come potete vedere, guardate, ho la possibilità di partire per esempio da questo disegnino qui e poi modificargli colori, dettagli, eccetera, eccetera. Naturalmente questa è una cosa anche un po' più professionale. Ci tengo a precisare una cosa importantissima che generalmente le collezioni di successo NFT sono quelle collezioni che sono disegnate direttamente da un grafico, quindi create da zero, non partendo da comunque oggetti già prestabiliti, che comunque noi possiamo in teoria utilizzarli per poter andare a creare il nostro NFT modificando qualcosina. Naturalmente un altro aspetto importantissimo in questo video non vi stiamo dicendo di andare a creare la vostra collezione di NFT, perché una collezione di NFT naturalmente si crea nel momento in primis in cui c'è qualcosa di importante da voler comunicare. C'è una community dietro, perché non è che voi create l'NFT, lo mettete su OpenSea per esempio e l'avete venduto. No, la maggior parte delle volte non lo venderete, attenzione. Però se c'è un'idea dietro e volete comunque provare a creare una collezione di NFT, noi vi facciamo vedere la via più semplice, la via più facile in assoluto. L'altra strada potrebbe essere quella di contattare un grafico che possa disegnare per voi e quindi mettere naturalmente in moto quella che è la vostra idea, quindi poi andare naturalmente a strutturare un po' tutta quella che è la vostra collezione. Di certo, ripeto, questi quattro strumenti vi possono dare una mano. Detto questo, quello che noi faremo oggi all'interno di questo video è farvi vedere come creare una collezione NFT, quindi il primo NFT da aggiungere all'interno di una collezione che vedremo naturalmente successivamente in altri video come creare una collezione di NFT attraverso lo strumento di Canva, ok? Quindi quello che voi dovete fare, se ancora non l'avete fatto, è andare su Canva.com, registrarvi. Una volta effettuata la registrazione magari trovate il link in basso, avrete la possibilità di ritrovarvi in una schermata come questa e quello che dovete fare è cliccare qui in alto su Crea un progetto. Cliccando quindi su Crea un progetto abbiamo la possibilità di visionare determinati progetti. Io per esempio, se volessi creare delle grafiche per Facebook, vi voglio solo far vedere questa cosa, mi appare la lista di tutto ciò che posso fare su Facebook. In questo caso specifico però immaginiamo di voler creare un NFT con un'immagine di una dimensione personalizzata, quindi un 2000x2000. Io clicco su Dimensioni personalizzate e metto proprio 2000x2000. Clicco su Crea un nuovo progetto ed ecco che mi ritrovo in questa schermata. In questa schermata con questa grafica quadrata e guardate qui. La prima cosa che noi possiamo fare è scegliere dei modelli prestabiliti. Considerate che Canva è stata pensata come piattaforma per andare a creare delle grafiche per i social network, ok? Quindi generalmente serve a quelle, infatti come potete vedere è tutto strutturato proprio per questo. Ma questo non vieta di poter creare un NFT. Ripeto, anche per un discorso vostro di soddisfazione personale di creare il vostro primo NFT, mintarlo su OpenSea e metterlo in venda. Poi se lo vendete o non lo vendete è un altro discorso ma so che molti di voi vogliono comunque farlo, ok? Allora oggi vi spieghiamo come farlo. Immaginiamo per esempio di voler creare una grafica su questo NFT, ok? Quindi su questa grafica dove andiamo a modificare per esempio questo leone cambiandogli il colore. Ecco una cosa che possiamo fare in maniera molto semplice e veloce. Oppure abbiamo intenzione di andare a creare una collezione di NFT e come abbiamo visto nel caso di questi NFT, vedete? Questi sono comunque disegnati, attenzione. Però qual è la cosa che subito ci salta all'occhio? Che molto spesso cambiano gli sfondi. Quindi gli sfondi che possono semplicemente anche cambiare di colore, ok? Oltre che il dettaglio dello sfondo, danno una certa rarità allo sfondo. Vedete che questo è uguale, ok? Ma questo probabilmente avrà una rarità maggiore. Io torno sempre all'interno di Canva e quindi una cosa che posso fare è scegliere il colore dello sfondo. Posso andare o su sfondo e quindi selezionare uno sfondo qui, oppure seleziono direttamente qui in alto un colore e per esempio lo voglio fare di colore viola, ok? Io metto questo blu viola all'interno del mio sfondo e quindi sono partito già con una scelta cromatica che è la parte fondamentale. Potrei anche lasciare bianco essenzialmente. Un'altra cosa che io posso fare naturalmente è o mettere una foto, però capite bene che se vado ad inserire una foto qui all'interno di questa schermata si allontana da quello che generalmente piace nel mondo degli NFT, cioè creare un personaggio che poi può cambiare nei dettagli. Vedete c'è questo cagnolino che è qui agli occhiali, qui il naso ce l'ha di colore blu, qua ce l'ha di colore verde, qua ce l'ha di colore grigio, qui è sorridente, qui invece è triste, qui non si capisce che espressione ha, qui al cappellino e così via, ok? Quindi io ritorno sempre qui e vado direttamente negli elementi. Ora io ho due soluzioni, posso trovare le grafiche direttamente qui su Embato Elements, ne trovo veramente tante, io qui adesso ho scritto NFT, attenzione, ma potrei semplicemente decidere di trovare delle icone di partenza, ne trovo qualcuna che mi piace, per esempio questa, vi faccio l'esempio e vado a modificare un po' il tutto, trovo qualcuna un po' più cartonesca, come quelle che abbiamo visto precedentemente, ok? Torno un attimo dietro così ve la faccio vedere, magari parto da questa, la salvo e poi che cosa posso fare? Gli posso cambiare i colori, ok? Perché comunque io su Canva volendo posso andare a caricare le mie immagini direttamente qui. L'altra cosa che invece posso fare è selezionare degli elementi, degli elementi direttamente qui, allora in questo caso specifico io posso mettere icona, io scrivo la parola icona, oppure voglio fare una collezione, ecco un leone sui leoni, ok? E voglio appunto un leone, vado a selezionare la sezione grafiche, vado a filtrare, mettendo nel caso in cui ho la versione pro, magari solo pro, noi abbiamo la versione pro, però in questo caso specifico io non voglio un'animazione, voglio un oggetto statico, va bene? E quindi voglio usare per esempio questo leone, vi faccio vedere questo qui, e lo voglio anche ingrandire, va bene? Quindi voglio comunque una grafica più grande. La ingrandisco e vedete io ho comunque qui le linee guida che mi permettono di spostarmi nella sezione di mio interesse, in modo tale da accentrare questo NFT, lo posso anche mettere più in basso, volendo se mi interessa è questo, perché come potete vedere qui non è che è proprio centrato, quindi potenzialmente lo posso spostare più in basso. Io magari voglio fare una collezione di questo tipo e guardate la cosa straordinaria è che posso cambiare i colori già, quindi volendo io posso andare a creare una collezione dove cambio il colore, quindi il primo magari lo faccio così, nero sul viola, va bene? Il secondo gli cambio semplicemente il colore, il terzo gli cambio semplicemente di nuovo il colore e poi il quarto lo tengo così ma magari gli cambio lo sfondo, quindi già ho iniziato a creare delle immagini differenti. Se voglio fare qualcosa di più figo, ecco che io posso per esempio, intanto mettiamo nero così contrasta meglio, qui mettiamo magari il colore bianco, va bene? E vi voglio far vedere una cosa, se io volessi posso andare a mettere per esempio gli occhiali, guardate qui, posso andare a mettergli gli occhiali a questo leone, ecco che già ho personalizzato il mio NFT, va bene? Oppure un'altra cosa che posso fare è magari creare una collezione di leoni con gli occhiali e l'unica cosa che andrò a cambiare sono i colori degli occhiali, quindi invece di questo gli metto questo che io lo piazzo sempre qui. Ok? Io adesso sto facendo così al volo per farvi capire. In ogni caso, se io vado qui nelle grafiche, ce ne sono di diversa natura e diverso tipo, ce ne sono talmente tante che comunque posso andare a visionarle un po' tutte. Per esempio vediamo qualcos'altro che possiamo andare a inserire, per esempio Ice, vediamo Ice, Ice in questo caso possiamo mettere dei cubetti di, cioè per capirci va bene, dei cubetti di ghiaccio, a posto degli occhi e così via. Oppure benda, benda, più che benda, eccola qui. Gli metto questa qui. Naturalmente poi devo andare a strutturare in una maniera corretta perché capite bene che alcune possono non andare. Dipende anche dal tipo di immagine che sto usando, però è un esempio, ecco. Ok? Quindi posso fare una cosa del genere. Quindi posso andare naturalmente a modificare un po' il tutto. Capite bene che nel momento in cui ho la possibilità di modificare lo sfondo, modificare il colore dell'immagine, aggiungere dei dettagli, io ho creato il mio NFT. Posso anche andare a inserire del testo volendo, delle foto, degli audio, dei video, perché gli NFT sono anche i video, quindi se volessi fare un video lo posso fare. Vedete, se io vado qui per esempio ho anche le immagini con la GIF, ecco in stile GIF, vedete? E io la piazzo qui. Va bene? Detto questo, una volta che io ho pronto il mio NFT, tutto ciò che devo fare è molto semplice. Vado qui in alto, clicco su scarica e vi straconsiglio di scaricare la versione in PNG. Se avete la versione Pro mi sembra che vi sbloccano questa funzione, questa voce, perché con la versione normale c'è solo JPEG. Quindi se avete quella normale e vi danno PNG, scaricate naturalmente PNG. Se non ve lo danno, scaricate JPEG. In ogni caso è meglio PNG, quindi come potete vedere io lascio le dimensioni 2000x2000, qui non tocco nulla, clicco su scarica ed ecco che ho creato il mio NFT. Una volta che ho creato il mio NFT, gli posso dare un nome naturalmente a questo NFT e poi all'interno dei portali che mi permettono di poter diventare anche creator. Se non sbaglio su Binance tra poco dovrebbero aggiungere anche questa funzione. Su Crypto.com per esempio c'è questa funzione, ma non tutti adesso vengono approvati. Vado direttamente su OpenSea dove con certezza posso vendere il mio NFT, però se utilizzo la rete Ethereum ho un costo, quindi ragionate anche sul costo. Comunque in ogni caso io posso pubblicare il mio NFT oppure decidere prima di pubblicare l'NFT di creare prima la collezione e dopo aver creato la collezione inizio a pubblicare il mio NFT, perché così ha senso per me la collezione. Vi ricordo che naturalmente questo è solo un tutorial illustrativo che vi spiega come creare un NFT, non vi sto dicendo che è giusto creare un NFT con Canva, non vi sto dicendo che diventate milionari perché i nostri non sono consigli finanziari, in quanto vi ricordo che una collezione NFT per avere successo ci sono troppi fattori attorno alla collezione come il design stesso, quindi qualcosa creata da zero di nuovo si vede quando è qualcosa di fatta bene da un grafico, la community che c'è dietro quell'NFT, l'obiettivo che ha quell'NFT, quindi magari accompagnato da un qualcosa di importante tipo io vendo l'NFT e ti do in cambio di questo NFT una consulenza perché sono un esperto in un determinato settore, capite che già diventa diverso, oppure ho creato un gioco e quindi questo NFT ti permette di sbloccare qualcosa in quel determinato gioco play to earn, ci sono talmente tanti fattori che vanno a influenzare appunto il marketing stesso che c'è dietro la collezione che comunque ripeto vanno a influenzare il successo o non successo di una collezione NFT, però se volete testare, se volete provare potete sicuramente seguire questa strada ed è la più semplice in assoluto perché come avete visto in pochi minuti abbiamo creato un NFT, qui da Mentalità Milionare è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao e a presto!